In cammino per rinascere, un passo dietro l'altro, nel segno della solidarietà, dell'uguaglianza e della condivisione. Sabato scorso, primo giugno, si è svolta una tappa del cammino di Bonaria a Nuoro, che ha visto la partecipazione di quattro detenuti del carcere di Badue Carros e due della colonia penale di Mamone. Una nuova iniziativa, voluta dall'associazione presiduta da Antonello Menne, che è parte di un progetto di lunga data per creare un percorso che collegherà Olbia con Cagliari, attraversando le zone interne della Sardegna. Il colore giallo perché ci rifacciamo al cammino di Santiago, alla scuola, alla tradizione di Santiago. Con il logo del comune di Nuoro, perché in ogni paese abbiamo creato questa collaborazione con la comunità locale. Dopo un anno che ci stiamo lavorando, oggi per noi è una giornata importantissima. Ieri siamo entrati al carcere minorile di Quartuccio, dove è iniziato un progetto insieme a loro e oggi insieme ad alcuni detenuti di Badue Carros e Mamone faremo la tappa che da Nuoro ci porterà a Orani all'insegna della solidarietà e dell'eguaglianza e della condivisione verso tutti. Sarà l'inizio di un grandissimo progetto all'insegna della libertà. L'iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con l'amministrazione penitenziaria in un progetto iniziato poco prima della tragica scomparsa in un incidente stradale nell'ottobre scorso della direttrice Patrizia Incollu, che aveva accolto con entusiasmo l'iniziativa. La collaborazione continua ora sotto la guida dell'attuale direttrice Marianna Madeddu. Sabato il ritrovo è avvenuto poco dopo le 7 nella rotonda di Badue Carros, dove è stata posata la pietra Sisteviator, tutti in cammino poi verso la parrocchia di Sant'Andrea a Durani.